Senta barcode, elezione speciale, elezione 2013, andiamo avanti. Eccoci con Ornella Pistoletti, rete dei cittadini. Ciao Ornella e benvenuta. Ciao, grazie a tutti quanto a voi che mi presento. Ornella Pistoletti, come candidata a consigliere alla Regione Lazio per la rete dei cittadini per le elezioni 2013. L'esperienza politica in parte da Aprilia, dove una cittadina di 70.000 abitanti ha deciso di essere governata da diste civiche. Da questa esperienza è partito il progetto regionale del 2010 e oggi del 2013, perché i cittadini sono in grado di decidere da soli quali sono le soluzioni migliori per la verità. Perfetto, quindi abbiamo visto il vostro manifesto, ricco di quello che piace a noi di Senza Barcoder, diritti civili e anche diritti di famiglia. Un paio di domande proprio su questo. Eutanasia, divorzio, case famiglia e periodo post separazione tra una coppia. E queste, diciamo, come persone, la libertà individuale, io penso che sia, anche io penso, anche noi della rete dei cittadini pensiamo che sia un diritto infriccindibile. Quindi ogni volta che qualsiasi legge limita la libertà individuale, fa una grande giustizia, non è una legge giusta. Quindi siamo sul discorso del nostro comune, abbiamo approvato il registro per il testamento biologico, ovvero ogni persona può decidere da sola quali trattamenti sanitari poter usufruire e senza essere attaccato a macchine che non restituiscono la dignità di vita. Un accanimento terapeutico quando non desiderato? E certo, qualsiasi pianta, prima di rinnovarsi la stagione, lascia andare tutti i suoi frutti, altrimenti non si rinnovano. Prendiamo esempio dalla macchina. Poi anche il discorso che, anche nelle famiglie, io ho detto sono una famiglia, sono scusa da 33 anni, vengo da una famiglia numerosa, ho sempre avuto, anche con dispiaceri, vengo verso mio papà quando ero piccola, ho avuto un giovane, però abbiamo avuto sempre un'idea di famiglia che può, diciamo, aiutarsi al vicenda. Ma molte famiglie, questo non succede, molte famiglie ci sono ingiustizie, abbandoni, violenze, sucrusi. Non dobbiamo aspettare tanto tempo perché una donna o un uomo possa rifarsi una vita con un'altra persona, con un altro compagno che li trova invece un'impiesa migliore. Ne va sia della sua salute, ma anche di tutti quelli, il resto della famiglia che gli sta intorno, perché anche i genitori, quando due sposi dopo un po' si lasciano, soffrono, e se poi non ci sono bambini, che sono proprio quelli che pagano tutti, di tutti, le violenze, i maltrattamenti, ma anche il dimenticarsi del qualsiasi cosa, il qualsiasi momento che può far star male l'altro, molto spesso viene usato solamente per il vento, perché non c'è più amore, rispetto. Sì, certo, la PAS è la sindrome di taglianazione parentale, noi purtroppo la conosciamo, l'abbiamo studiata. Ancora qualche domanda. Abbiamo parlato prima, mentre bevamo un caffè, di Malagrotta. Io pensavo non vi toccasse così tanto Malagrotta, invece scopre che questa discarica, la più grande d'Europa, viene a rompere le scariche, le passano in termine, anche ad Abrilia. Perché? Non solo ad Abrilia, ma tutta la regione Lazio, perché con un degredo il ministro Vini ha stabilito che tutti i rifiuti di Roma, che non possono più essere contenuti a Malagrotta, devono essere distribuiti, spalmati per il resto della regione. Questo, nonostante ci siano stati in questa regione da anni, sia dal centro-destra che dal centro-sinistra, dei commissari ad hoc che dovevano risolvere il problema. Non è stato fatto mai nulla, anzi, sono spesi dei soldi inutilmente. Perfino il sindaco Aleman ha fatto un viaggetto in America per vedere come funziona San Francisco, ma non ha imparato nulla, perché non si sta facendo niente per andare verso zero waste. È l'unica strategia che permette di non avere più rifiuti, cioè di non avere più oggetti che non utilizziamo noi, ma possono essere utilizzati dagli altri. Perché zero waste va oltre i rifiuti zero. Perché waste significa spreco, quindi non dobbiamo più fare sprechi. C'è, la tecnologia c'è e anche l'ideologia, quindi è solo una questione di stretta politica. La rete dei cittadini è per la strategia rifiuti zero, che diminuisce fino al 90% il conferimento in discarica, tantomeno l'uso degli inceneritori, che sono un'altra grave disgrazia che sta piovendo sopra le nostre teste, in quanto l'ultimo regalo che questo governo vuole fare ai cittadini è permettere l'uso del CDR per mandare avanti i cementifici. E addirittura le polvere degli inceneritori devono essere mischiate con il cemento per le nostre distruzioni. Niente di più inquinante. E questo penso che sia grave diritto, che si ha un diritto a vivere in un ambiente sano e salvo. Come non abbiamo più diritto, ancora non abbiamo il diritto, ad avere un'acqua potabile nei nostri rubinetti. Perché un po' la cultura della bottiglia, un po' effettivamente la mancanza dei controlli, fa sì che in molte zone della nostra regione, provincia di Viterbo e provincia di Latina, si bevano ancora acqua all'assegno. C'è da dire una finestra aperta sulla rete dei cittadini, su Ornella Pistolesi, parleremo ancora di questo argomento, ho anche bisogno di una nuova rubrica sull'MCS, sensibilità chimica multipla e su tutti i tumori dati proprio dall'infinamento ambientale e atmosferico. Senza barcode, vi saluta. Grazie.